Allora vai Sì sì 3, 2, 1, via! Allora A fine del mio sconto Quello devo mettere 4 mare di spazio Eh, per averli separati Non avere tutto il mega pimpone di 2 ore Con trasmissione fermi in alive Con limitazione invece di incontro Sì 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 Allora Mi faccio vedere Ricordare che il fatto di mettere un sconto A registrazione E poi avviare Perché il salere è sempre usato No 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.